E' stata inaugurata ieri la Rainbow Beach di Eboli, la prima spiaggia apertamente friendly della provincia di Salerno, in cui tutti sono i benvenuti, indipendentemente dal proprio genere e orientamento sessuale. Su questa spiaggia, che si trova in via Vittorio Giannatasio a Campolongo, ognuno può esprimersi nella piena gioia. Si dice felice dell'iniziativa il presidente di Archigay, Francesco Napoli, che sul quotidiano la città ha spiegato Tuttavia, tengo a precisare che non è un lido gay, è uno spazio friendly aperto a tutti, dove l'obiettivo è valorizzare le uguaglianze e far sentire ciascuno a suo agio e accolto. È aperto a tutti, non è un club come i ragazzi e le ragazze LGBT devono farsi andare bene un bacio in pubblico tra due persone eterosessuali. Ci aspettiamo che questa iniziativa possa abbattere qualche barriera sociale e culturale e contribuire a una crescita globale. Un'apertura che apre un barco importante all'idea che anche sul territorio salenitano possa sorgere impresa sociale intorno al tema dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, dei diritti e delle uguaglianze.